Reno direi no? Se potrebbe prendere anche Zephyrus ma credo che sia più forte Reno Oddio doppio Mino Rosa Non so mi sa di bait Non voglio fare un Mino Rosa HP Però forse in sto spot va fatto Con doppio No voglio fare il gut play ragazzi Basta Mino Rosa Non le voglio più vedere Basta un Mino Rosa Comunculus è meglio Purtroppo se lui ha trovato il token perdiamo Ma non possiamo saperlo se l'ha trovato o no 2-2 si può frizzare Però ci sono effettivamente tutti i token Non lo frizzerei Purtroppo ho trovato il token Non solo ho trovato il token Ma ho trovato anche quello che è in grado di batterci Quindi Ci prendiamo due danni contro il turno a T2 Se fuori stato tipo il gattino avremo almeno pareggiato Allora il punto è che spawn adesso ovviamente Lascia il tempo che trova Però Non voglio prendere il selfless Questo è il succo Per cui l'Homunculus è meglio di altri pezzi A uno all'inizio Quel 2-3 Se io adesso avessi scelto Tipo anziché l'Homunculus Il 2-3 drago Che vabbè non ci sono i draghi Però è per fare un esempio ipotetico Avessi preso quello Anziché l'Homunculus Ora non avrei potuto fare quel 2-3 Che sposta un casino Oltre a farci giocare pure bene con il gold Ok Fatta Ne va bene Insomma devo comprare la maledetta selfless Selfless più 2-4 Due pezzi a due E vabbè gli altri due erano ingiocabili Per scammare una topa di due mini rosa Non basta ragazzi Ho notato Si arriva circa quasi sempre quarti quinti E si perdono punti Non mi piace fare la giocata HP su mini rosa T1 No Fatta Fatta Vabbè va bene Fatta Vabbè l'ha preso quel Macau È già nel 3 Ha triplato in 2 Macau Coppia spawn È una coppia Anche bella Questo qui non era terribile con lui Ma coppia ovviamente Top Soprattutto poi coppia di spawn Qua era una delle Delle migliori coppie che si potesse fare Devo dire che le spell del T4 Mi mancano anche T12 T8 no In realtà anche le spell del 4 Erano estremamente high roll E non mi manca A me non manca neanche Il hopper che trovavano Ice block al T12 Sono contentissimo Che le spell non ci siano più Gioco adesso più Cioè gli high roll Ci sono ancora Ma molto di meno Molto di meno Cioè può sempre capitarti Il tizio che ha T9 C'ha 2 Kalegos e 4 Hoggar Come prima Però Era l'ordine del giorno ragazzi Con le spell Qua deve andare Ok Buono Ho tutta la kir Che ho tutta Aveva 2 spawn anche lui In che non è positivo Che abbia 2 spawn Perché sarà difficile trovarle Wow Però qua Attenzione Sarei per vendere il 2-4 E comprare la selfless L'homunculus E il sauro lisco Però in realtà l'homunculus Non lo so Perché potrei prendere anche Saurulisco Macao selfless Senza prendere l'homunculus Ed è comunque tanta roba Macao va preso Dai Macao va preso Lasciamo stare la coppia Di homunculus direi Golden Macao No Non adesso Magari non prendevo Sarulisco Per prendere l'homunculus Ma Oh no Non c'è stata Dai Golden Macao sicuramente Ha una giocata super tempo Per non perdere i fight Ma io ho 2 coppie Voglio adesso trovare La tripla di queste E prendere un pesto a 5 E faccio HP sopra Ho riuscito a perdere 16% 4 danni Ho delle reclute Fresche fresche Per te Non vado niente Roll for triple Saurulisco È un'altra coppia Ma dovrei vendere l'homunculus Quindi qua non ci sta Comprare Saurulisco 2 roll Altro roll Vai Niente Qua Blambacast Triple ragazzi È fondamentale Gold Macao Ma no C'è ho 32 di vita 2 coppie No Aspettiamo Questo hop è forte Ma perché ha preso Kiraji No Lì Si non è fortissima Combo Combo Spawn E selfless 15 danni Devo triplarne uno dei due Ce la farò Ce la farò Triplarne uno dei due Qua posso prendere Il lupacchiotto Il veleno Il veleno con selfless Non è male Però non ho murlock Dai rolliamo per una tripla Ce la possiamo fare Spazzature Cioè nel senso Prendo il 7-3 No Tiene a uscire Khadgar Raga Disastro Ok Ok La faccio adesso Vogliamo provare a fare il 6 Non credo di potermelo permettere Il 6 posso trovare Non devo fare il 5 Devo farlo Fango tipo Farmi Trax Questo andava prima di Selfless Maybe Non potevo permettermi Chef No Ragazzi Perdevo anche sto fight Ciao poi Forse il mitrax dorato è forte Devo prendere Ginny E Di Però una cosa del genere Credo Così questo attiva selfless Ginny comunque Un elemental Quindi pompa un po' più Mitrax E Attivare due volte Ginny con questo Onestamente direi di no O meglio se Se capita Però che almeno Devo avere spazio Quindi faccio prima Schiantare la parole Questo quindi si piglia Un più 6 Più 12 Che è fortissimo Ovviamente avendo trovato Ginny Ora potremmo un po' Rimpiangere Non aver fatto Europower su Chef No mi ragazzi Però stavamo parlando Comunque del turno 8 E che io stavo a 17 di vita Se non avessi preso 15 da raga Avessi preso 8 Quindi con ben 7 di vita in più Magari avrei fatto anche Europower su Chef No mi Comunque in ogni caso Farlo su mitrax non era male Secondo me Devo non goldarlo Per farlo ora su Ginny La capisco Secondo me era forte Cioè mitrax alla fine Posta un casino Che si è adorato Guarda quanto crash Bella spazzatura Che mi ha dato Ginny Mamma mia Due pezzi a 1 Però magari vado a 6 adesso Non so Cioè con Con la comp che ho attualmente Il Macao Potrei anche azzardare Una livellata al 6 Credo Uovo e modulo Però sono interessanti Chef nomi Turno 10 Mi sa che non si piglia Il punto è che Voglio vendere questo Tanto c'ho già la bestia Non voglio vendere Macao Gli faccio Tier up Vendo lui Uovo e modulo Fa schifo Perché ho Macao Quindi vado a 6 qua Gold per farlo Secondo me ce l'ho Ok Quindi prendo Sia questo Che questo Comincio con questo Eeeh Che festa Non ha preso neanche le piante Beh Ottimo Quindi Una mega festa Quanti di voi Avrebbero comprato Chef nomi Perché qua Era veramente Un bait gigante Era che dopo si salva Comunque Questo Vinto il suo flip Sopravvive Allora Cosa vogliamo prendere Adesso per potenziarci Siamo molto forti Però Questa spawn Se ne va Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 Che rimangono sempre Voglio prendere un altro Amalgadon E Possibilmente un altro Max Praticamente è uno scam comp Questa alla fine Quindi Qua non prendo niente Qua neanche Ecco modulo Può essere interessante In previsione di un Amalgadon Anche perché Anche perché alla fine E' quello che voglio fare Anche io avrei scelto Quello Grazie Bob Apprezza Sti pezzi Non cagare Cioè 2, 3 Non voglio niente Di questi Rollo Posso chiudere di Coiler Ma in realtà Coiler con questo Non è buono Quindi mi riesco A tenermi la spondorata Un altro turno Un altro roll Eh sì Rimango così ragazzi Io qua devo far Devo riuscire a montare Un altro Amalgadon Perfetto Ma al massimo Lo attacco qua Quando vende lo genie Per avere un taunt Insomma Barone anche Yes 2 gold 12, 18, 19 Indirittura avevo No Ah sì Lui è un 5 Non è un 6 Avevo uno 0.1 Di ammazzarlo Nulla Nulla Mexna Bella Mexna Zap 2 makai No Mexna la prendo Sicuramente Baron Inti l'assalta Makao Per Baron Eh sì Faccio questo Vediamo cosa mi dà Niente Era prevedibile Posso fare Al tazzone Ma in realtà Non ha Grande utilità In sto spot Jolly Jolly si prende Può essere utile Per triplare Bo Baron Non so raga Se voglio ottenere Un altro turno Genie Farò semplicemente così Se attacco prima io Mi dà anche due pezzi No Non so raga Non so raga Non so raga Non so se voglio fare qualcosa con i rag Mi sa che è un po' tardi Visto che comunque ho due max e una magadon Non so cosa posso onestamente riuscire a cavare con il rag Speravo di trovare la magadon ovviamente da Gini No il morto Vabbè che festa quindi prendo lui Prendo lui Prendo lui faccio rag Perfetto Eh vabbè ma così c'è non fa più niente adesso Ero il carico adesso prendi Murlock e faccio tutte le porcherie Finita la comp adesso Devo solo appiazzare solo modulo Vabbè allora quindi Eh allora via rag E basta c'è un po' di buff Ho già tutto Bisogna avere anche più questo E' più forte un altro velino o Baron? Baron No giusto per pompare più il Mitrax La comp è finita Questa è una scam comp perfetta Tu lo dopo chiuderò con un'altra maxt Sì l'ho visto L'ho visto Diego L'episodio di out I brillissimi Sì raga ha preso il buff Ma non ci interessa Cioè abbiamo due magadon perfetti Due max Una selfless dorata Baron E un mitrax dorato OP quindi Direi che siamo più che a posto Non serve neanche prendere Argus A meno che non voglio dare lo selfless Che ci può stare in realtà Che può stare Anzi penso ci stia Ho sbagliato Sapete dare Argus A questo qui Forse era meglio darlo al non Windfury Così mettevo lui secondo Eh sì era meglio Vabbè Cambia veramente un niente Però era un po' meglio Se no in cosa mi serve È giusto triplare Barone Penso qua Tutto il resto è già triplato Ponto lui Ghoul Compri Ghoul per non darlo a OP Ma non mi fa neanche così male Ghoul No era meglio magadon Non so qua Per self Per Per questa qui esatto Per idra Però Avendo attaccato prima io Si becca il colpo Barone Chi se ne frega Barone se ne può anche Andare tranquillo Si salva però Questo trade 6 12 18 Se non ammazzava la prima Max Non era morto C'erano due turi Non vorrei che mi caccino Io sono a posto Capito Quindi avrei voluto Ucciderli subito Prendo le cose Che mi danno fastidio E basta Tanto jolly Serve a niente Holy shit Holy shit Questo era Era l'unico scenario Dove effettivamente Forse mi posso potenziare Perché posso fare 3 magadon Così Però non ho alcuna Alcuna certezza Che mi escono migliori di quelli Forse non vanno presi Cioè tecnicamente Fare degli amalgadon Altri amalgadon perfetti Cioè Avendone due lì Posso fare jolly su uno E fare tipo 3 amalgadon In quel modo Però Mi indebolisco Quindi io sono quasi Tentato di tenerli Lì frizzati In modo tale Che non li prendano I miei avversari Sì Sì ho proprio sbagliato Era meglio metterlo Ci ho dato lo scudo Quello sbagliato Di amalgadon Che sembra alla fine Influente Al momento Che effettivamente lo è Però anche quelle piantine No torrivo un toglie Degli scudi Adesso Ho vinto lo stesso Favo tutto Mitrax Poi alla fine Sono Mitrax Che costantemente Rimano in campo Ma in genere In tutte le scam comp È giusto Cioè devi avere il pezzo Un pezzo carry Con infinite stats Più i veleni Se no non bastano i veleni Dovrò non bastare Vabbè io ragazzi Lo frizz È buono Compro tre pezzi a caso Mi sto così Vai AFK comp E prendo l'acqua Questa è andando Una bella AFK comp Ho un 10% di perdere Non bene Mi ho perso What the fuck Trovato Ghoul L'ho trovato Quindi Tolgo Baron E faccio davvero sta roba Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Metto lui davanti Tipo Metto lui davanti Però lui mi attacca con Quello Starei buono Tra fino a un 10% di perdere Swap Baron Mitrax Sì Questa è la giocata Oppure in realtà è così Se mi swappa qua Comunque si attiva lui Poi metto questo Ammazza praticamente tutto Poi fanno un value trade Poi metto lui Sì Oddio in realtà Potrei anche mettere Lui lì Questo qua Giusto così Potrei mettere questo qui No però è giusto che Solo piglia Mitrax È così Positioning è questo Per un'altra pezza a casa È finito per sport Ho comunque un 13 Di perdere Che ha preso anche Ha preso Zap Sto infame Oh ma che è sta roba Sto per perdere di nuovo Ok Però effettivamente Con Zap Forse quegli Amaz Non li avrei fatti Tu e dopo Ovviamente li avrei fatti Perché a quel punto Baron saltava Ah potevo provare a fare Ok Comunque ragazzi Bob qui ci ha dimostrato Di avere Un ottimo senso Dell'umorismo Nella partita di prima Noi abbiamo avuto Brandorato E non siamo riusciti A trovare mezzo Amalgadoni Adesso Abbiamo due Amalgadoni Perfetti E Bob ce ne ha offerti Altri due Così Abbiamo due Amalgadoni Grazie a tutti.